Nell'anno del centenario della nascita di Nino Manfredi, il Centro Sperimentale di Cinematografia ha realizzato un documento video composto dalle immagini di molti film e materiale dell'archivio fotografico della Cineteca Nazionale. Le musiche originali del progetto sono firmate dal compositore Davide Cavuti. Le foto sono state selezionate a cura di Antonella Felicioni con il montaggio del nostro Antonio Dottavio. Il docu-video già presentato in anteprima al Festival Molise Cinema verrà proiettato oggi alle ore 18 a Palazzo Sirena a Francavilla al mare a cura del Centro Studi Nazionale Cicognini. Ve ne proponiamo un breve strato. E' uscito! E' uscito! E' uscito! La! La! E' uscito! 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 E' uscito!